amici ma soprattutto nemici bianconeri buongiorno un cazzo buongiorno un cazzo buon pomeriggio buonasera 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 ma voi credete alle puttanate di branchini credete alle puttanate di branchini branchini ma si può essere più cazzare più minchiatare di questo personaggio ma ormai veramente qua siamo alle uomini alle uomini alle uomini che le uomini che si possono mettere da parte in confronto a questi due personaggi branchini allegri scemo e più scemo scemo e più scemo scemo e più scemo al male in cuore a mano in cuore sarebbe stata anche per me a livello professionale una cosa grandissima male in cuore però abbiamo scelto la merda abbiamo scelto per la famiglia per la per una questione di città abbiamo scelto la merda tra virgolette perché si capisce che lui intende questo ma io dico semplicemente una cosa caro branchini o come cazzo di chiama ma tu e poi aspetta aspetta ma se c'è una dichiarazione ufficiale di perez dove dice non ho mai cercato allegri non ho mai cercato conte non ho mai cercato pochettino perché ancora dove dovete continuare a dirle questa puttanata perché un colpo sabatine che si prende un caffè un caffè un caffè drink 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 pronto o per essi stavo prendendo un bel cappuccino con qua con il mio leccaculo sì sì mi stavo prendendo un cappuccino e aspetta un secondo berzi leccaculo come prende il giornale portiamolo subito si no non posso venire a ria madrid non posso venire no non posso venire no come mai quando il culo e comincia a stringere quando il culo incomincia a stringere escono fuori queste puttanate escono fuori la chiamata di perez ormai sta diventando come l'ave maria come quando tu hai bisogno inizi a pregare allora quando c'è bisogno inizia subito a uscire le carte quelle quelle pesanti le carte i carichi come si suol dire ed esce perez ed esce lui invece con una dichiarazione ufficiale dove dichiara che non ha mai cercato pochettino conte e la merda non viene creduto ma smettetela smettetela di dire puttanate allegri allora ti dico soltanto una cosa volendo credere a questa puttanata volendo credere ma non è vera perché il bel disco c'è le dichiarazioni diverse tu non sei uomo tu non sei uomo tu sei venuto qui alla juventus semplicemente perché hai la comfort zone te la dico col termine giusto la comfort zone perché ai tifosi purtroppo come come te che più fai schifo e più di venerano oppure soprattutto ai giornalisti come balzarini perché anche oggi balzarini ha fatto un video più schifoso della merda scusa il video se ti chiamo merda anche scusa merda se ti chiamo video perché quello che gli è uscito dalla bocca oggi c'è dal al signor balzarini che poi scommi hanno la casta di risonanza che se ne vanno in trasmissione io non sono a media 7 capisci non sono a media 7 e fanno il video la juventus e la squadra che crea più occasioni occasioni un cazzo occasioni un cazzo sono tutti rimballe vieni da fuori aerea tutte puttanate la verità caro balzarini la dovresti dire è che tu oggi rispetto allo scorso anno hai un punto in più e non hai nessun tipo di penalizzazione lo capisci lo capisci no siete dei lecca o culo siete dei lecca o culo e anche a napoli e togliamoci questa situazione questa puttanate che l'avevano se giocato bene a napoli l'avevano se non ha giocato bene a napoli l'avevano se ha avuto rimballi a napoli non diamo diciamo le cose come stanno porca puttana se abbiamo avuto due occasioni è assai create perché è così perché è così siete delle merde siete tutti delle merde ma si ci ingazzate fino alla fine allegria 8